Dante, non sono certo io a scoprirlo, non è solo un grande poeta ma anche un sapiente narratore, infatti la sua accortezza narrativa gli fa alternare canti più polifonici, più collettivi con molti personaggi ad altri in cui un personaggio, una figura eccelle, domina, campeggia, così è il 27esimo canto, la seconda parte del quale è praticamente un monologo di questa figura, un altro consigliere fraudolento, è Guido da Montefeltro, Romagnolo, dato come uno dei più astuti e validi, valorosi condottieri, uomini di guerra dell'Italia del XIII secolo, costui incontra i due pellegrini, riconosce l'accento lombardo di Virgilio, però è Dante a parlare con lui perché Dante è sempre premuroso, curioso e anche voglioso se può di dare un aiuto, cosa gli chiede Guido da Montefeltro il quale premette che non parlerebbe se pensasse che Dante poi riporterà cose brutte di lui, si fida di Dante e chiede notizie politiche, pratiche della sua Romagna, è romagnolo e Dante gli dice che personalmente non sa in dettaglio di guerre particolari al momento, ma che la Romagna è stata e sarà sempre teatro di guerre, di avvenimenti drammatici, di una certa violenza, Croce che rimane uno dei grandi commentatori anche della Divina Commedia, diceva di questa regione che ogni cosa vi è espressa in modo concreto, con immagini corpulente, gli stemmi, i nomi dei signori, i fiumi che bagnano quella terra, gli avvenimenti di cui essa fu teatro, come esseri vivi, esaurito comunque il racconto sulla situazione sempre in bilico della Romagna, ricordiamo che Dante nel convivio faceva le lodi anche di Guido da Montefeltro perché dopo una vita dedicata alla violenza e all'inganno fu colto, fu preso da una crisi salutare religiosa e soprattutto venerò San Francesco, una crisi mistica. Allora qual è la colpa di Guido che Dante ci riporta? Il consiglio fraudolento a chi fu dato? Fu dato a Papa Bonifacio VIII, il quale viene definito lo principe di nuovi farisei, con Bonifacio sappiamo che Dante ce l'aveva, aveva la pelle scottata e il Papa diceva guarda dammi questo consiglio io ti assolverò e finalmente Guido da Montefeltro gli suggerì il sistema di abbattere la città nemica al Papa di Palestrina. Il consiglio fu letteralmente lunga promessa con l'attender corto, cioè prometti molto e mantieni poco. A questo punto come una sorta di post scriptum il canto si chiude come altri con una specie di zuffa intorno all'anima di Guido da Montefeltro ormai spento fra San Francesco che lo vorrebbe portare in luoghi migliori e invece un diavolo che prevale perché Guido da Montefeltro non ha fatto a tempo a pentirsi. Già era dritta in su la fiamma e queta per non dir più e già da noi sengia con la licenza del dolce poeta quando un'altra che dietro a lei venia ne fece volger gli occhi alla sua cima per un confuso suon che fuor ne uscia. Come il bue cicilian che mughiò prima col pianto di colui e ciò fu dritto che l'avea temperato con sua lima, mughiava con la voce dell'afflitto sicché con tutto che fosse di rame pure il pariva dal dolor trafitto così per non aver via né forame dal principio nel fuoco in suo linguaggio si convertian le parole grame. ma poscia che ebber colto lor viaggio su per la punta dandole quel guizzo che dato avea la lingua in lor passaggio udimmo dire o tu a cui io drizzo la voce e che parlavi mo lombardo dicendo istra ten va più non t'adizzo per chi io sia giunto forse alquanto tardo non ti incresca restare a parlar meco vedi che non incresce a me e ardo se tu pur mo in questo mondo cieco caduto sei di quella dolce terra latina ond'io mia colpa tutta reco dimmi se i romagnoli an pace o guerra ch'io fui di monti là in traorbino e il giogo di che teversi di serra io era ingiuso ancora attento e chino quando il mio duca mi tentò di costa dicendo parla tu questi è latino e io che avea già pronta la risposta senza indugio a parlare incominciai o anima che sei laggiù nascosta romagna tua non è e non fu mai senza guerra nei cuor dei suoi tiranni ma in palese nessuna orvi lasciai ravenna sta come è stata molt'anni la guglia da polenta la si cova sì che cervia ricopre coi suoi vanni la terra che fe già la lunga prova e di franceschi sanguinoso mucchio sotto le branche verdi si ritrova e il mastin vecchio e il nuovo da verrucchio che fecer di montagna il mal governo la dove soglion fan di i denti succhio le città di Lamone e di Santerno conduce il lioncel dal nido bianco che muta parte dalla state al verno e quella cui il savio bagna il fianco così com'ella si è tra il piano e il monte tra tirannia si vive è stato franco ora chissè ti priego che ne conte non esser duro più c'altri sia stato se il nome tuo nel mondo tegna fronte poscia che il fuoco alquanto ebbe rughiato al modo suo la guta punta mosse di qua di là e poi di ecco tal fiato se io credesse che mia risposta fosse a persona che mai tornasse al mondo questa fiamma staria senza più scosse ma però che giammai di questo fondo non torno vivo alcun si odo il vero senza tema d'infamia ti rispondo io fui uon darme e poi fui cordigliero credendomi siccinto fare ammenda e certo il creder mio venia intero se non fosse il gran prete a cui malprenda che mi rimise nelle prime colpe e come equare voglio che mi intenda mentre ch'io forma fui d'ossai di polpe che la madre mi diè l'opere mie non furon leonine ma di volpe gli accorgimenti e le coperte vie io seppi tutte e simmenai l'orarte che al fine della terra il suono uscì quando mi vidi giunto in quella parte di mia etade dove ciascun dovrebbe calare le vele e raccoglierle sarte ciò che pria mi piacea all'or mi increbbe e pentuto e confesso mi rendei ai miser lasso e giovato sarebbe lo principe di novi farisei avendo guerra presso all'aterano e non con saracini né con giudei che ciascun suo nemico era cristiano e nessuno era stato a vincere acri né mercatante in terra di soldano né sommo ufficio né ordini sacri guardò in sé né in me quel capestro che solea fare i suoi cinti più magri ma come Costantin chiese Silvestro dentro Siratti a guerir della lebre così mi chiese questi per maestro a guerir della sua superba febbre domandò mi consiglio e io t'accetti perché le sue parole parlerebbre e poi ridisse tuo cuor non sospetti finur t'assolvo e tu mi insegni a fare sì come penestrino in terra getti lo cel possio serrare e diserrare come tu sai però sono due le chiavi che il mio antecessor non ebbe care allora mi pincer gli argomenti gravi là ove il tacermi fu avviso il peggio e dissi padre da che tu mi lavi di quel peccato vio mò cader deggio lunga promessa con l'attender corto ti farà triunfar nell'alto seggio francesco venne poi come io fui morto per me ma un di neri cherubini gli disse non portar non mi far torto venirse ne dè giù tra i miei meschini perché diede il consiglio fraudolente dal quale in qua statoli sono ai crini cassolver non si può chi non si pente né pentere e volere insieme puossi per la contraddizione che non consente o me dolente come mi riscossi quando mi prese dicendomi forse tu non pensavi chi io loico fossi a minos mi portò e quelli attorse otto volte la coda al dosso duro e poi che per gran rabbia la si morse disse questi è direi del foco furo perché io là dove vedi son perduto e si vestito andando mi rancuro quando egli ebbe il suo dir così compiuto la fiamma dolorando si partì torcendo e dibattendo il corno aguto noi passamoltre e io e il duca mio su per lo scoglio infino in su l'altr'arco che cuopre il fosso in che si paga il fio a quei che scommettendo acquistan carco l'altr'arco Grazie.